Exoratics, stai cercando una multispace di carattere di altissimo livello? BMW Serie 2, 218D, Active Tourer Advantage, 2000 di cilindrata, 150 cavalli, scopriamola insieme. Stiamo parlando di un autoveicolo aziendale che ha percorso poco meno di 45.000 km e che è certificato e garantito perché come tutte le nostre autovetture deve aver superato il test dei 150 punti di controllo dei nostri automotive expert. Inoltre è ricondizionata sia nella meccanica che nella carrozzeria, di conseguenza è assolutamente pari al nuovo. Super elegante in questa versione bianca, alimentazione diesel, consuma solo 4,3 litri ogni 100 km. I cerchi sono in lega, cromati, multiratta da 16 pollici e il battistrada in condizioni perfette. E scopriamo insieme il bagagliaio che so che è la cosa che più vi interessa. Molto ben sagomato, con luce alogena di cortesia sulla destra, parte da una capienza di 468 litri che diventano più di 1000 abbattendo le sedute posteriori frazionabili singolarmente. Inoltre il bagagliaio è elettrico, hands-free tailgate, davvero comodissimo. Grazie all'ampio angolo di apertura delle portiere è super agevole accedere all'abitacolo. All'interno abbiamo tantissima spaziosità, ariosità, comodità e non manca la luminosità grazie all'ampia finestratura e al cielo chiaro. Le sedute sono in tessuto, bellissima è la texture. Ergonomiche, sagomate e dotate di attacchi isofix a entrambe le sedute esterne e posteriori. Bellissimo anche l'interno delle portiere con inserti cromati e in tessuto effetto soft touch. Il sistema di accensione è start and stop e l'accesso è keyless. Vediamo dal quadro strumenti che sono stati percorsi in meno di 45.000 km. Davvero di design è la plancia con la palpebra cromata, il display per la gestione dell'infotainment che si erge sopra le bocchette dell'ariazione e il volante a tre razze è dotato di numerosissimi tasti, tra cui il cruise control con limitatore di velocità, il comando vocale per la gestione delle telefonate. Da questa praticissima manopola possiamo gestire l'infotainment. Abbiamo a disposizione la navigazione, possiamo accedere ai multimedia, alla radio, possiamo connettere il nostro smartphone, accedere ai connect drive e a tutte le impostazioni di setup della vettura. Inferiormente troviamo le bocchette dell'ariazione e la gestione del clima che è automatico e bizona. Possiamo impostare anche la modalità di guida che preferiamo tra Sport e Eco Pro. Il cambio è manuale a sei rapporti, il freno di stazionamento è elettrico, numerosissimi sono i vani portoggetti, il doppio portabibite e un ulteriore vano a scomparti. Inserendo la retro abbiamo accesso ai sensori di parcheggio, per parcheggi no stress. Ancora più ergonomiche, avvolgenti e confortevoli sono le sedute anteriori, con sostegno laterale e supporto lombare morbidissime. Cosa stai aspettando? Corri subito sul nostro sito rattics.com, dove potrai scegliere e riservare la tua auto con un semplice click per 7 giorni senza impegno con soli 100 euro e potrai prenotare una video call con uno dei nostri sales. Potrai ricevere la tua auto direttamente a casa tua, con il nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione e garanzia europea, garantito in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social. Alla prossima auto!